Porteremo tecnologie avanzate che non danneggino le vostre risorse naturali. Vivrete in un pianeta sano. Siamo i visitors. Veniamo in pace. Sempre. Siamo in un paese. E tu hai un palazzo là. Questo è incredibile, come buono. No, solo il migliore. Voi lo che ricevi. 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 Ma che è stato fatto. Voi? No, per esempio, il fatto è stato di ripropo. Ma che è stato fatto. Ma che è stato fatto. In me la parola. E' sicuro che hai detto. Il Presidente. Il Presidente. Il Presidente. Il Presidente. Non c'è nulla di tensione. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti